Ben ritrovati, il pulcinella di Catano Pesce installato in piazza municipio, un risultato sicuramente lo ha già raggiunto, ormai ne parlano tutti, non solo in Campania e come spesso accade di fronte a un'opera d'arte così particolare e anche se vogliamo dirompente, si formano due fazioni tra favorevoli e contrari. La forma fallica dell'opera però ha scatenato anche rabbiose proteste, subito raccolte 200 firme dalle donne dell'associazione Terra di Lei attraverso una petizione sul web ed è già partito il pressing sulla sovrintendenza per arrivare alla rimozione del pulcinella ma si annunciano persino azioni legali a tutela dei minori. Un bel problema per l'amministrazione guidata dal sindaco Gaetano Manfredi che comunque ha cercato di smorzare il caso sottolineando che l'arte deve comunque far discutere, sentiamo. Quando l'ho vista mi ha insomma molto colpito però diciamo da Gaetano Pesce che è stato il massimo esponente del design radicale che quindi ha fatto tante opere fortemente controverse e discusse non ci potevamo aspettare cose molto diverse. L'arte è importante perché fa discutere, fa commentare in maniera positiva e negativa, si parla di Napoli e questo per noi è un fatto positivo perché portiamo Napoli anche in un dibattito sull'arte che è importante. Inizialmente quando l'ho visto ho pensato quello che hanno pensato anche gli altri perché diciamo è stato il pensiero che penso sia arrivato a tutti che poi è un pensiero molto napoletano quindi lo dobbiamo prendere anche come un pensiero di buon augurio. Però poi adesso la curatrice purtroppo Gaetano Pesce è scomparso proprio prima di poter vedere realizzata l'opera ci spiegherà che in realtà l'idea è quella di una rappresentazione stilizzata del rapporto tra il pulcinello e il cuore dei napoletani molto diciamo forte e anche rappresentata al punto di stella luce e comunque è un tema diciamo tutto questo dibattito che è nato anche popolare lo trovo un fatto molto positivo. Discutere è importante, significa coinvolgere le persone, criticare, è il segno di una città viva che è all'interno anche di un dibattito artistico quindi è un fatto che io ritengo positivo. Allora fin qui la posizione del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi noi abbiamo in collegamento Iris Savastano che è la capogruppo di Forza Italia al comune di Napoli ben ritrovata e grazie per la sua disponibilità. Buonasera a voi. Allora intanto le chiedo dal punto di vista estetico le piace davvero questa installazione oppure no? Eh beh diciamo che è veramente imbarazzante ovviamente in senso negativo. Certo quindi insomma giudizio negativo bocciatura completa? Assolutamente assolutamente. Però diceva il sindaco in fondo l'arte deve far discutere e l'obiettivo al suo giudizio è stato raggiunto insomma. Ma sinceramente non credo che in questo momento la città di Napoli abbia bisogno di questo tipo di pubblicità. Eh credo che non sia una priorità per la città di Napoli eh fare questo tipo di installazioni visto e considerato che eh stiamo in un stiamo vivendo un periodo di grande splendore da un punto di vista turistico e invece sarebbe necessario pensare a eh spendere questi soldi dei cittadini del comune di Napoli poi in parte nello specifico in questa situazione ci sono eh risorse anche regionali eh ci sono altre priorità. Pensiamo a tutto quello che riguarda la manutenzione degli alloggi popolari, la manutenzione delle strade, dei giardini, il decoro urbano. Credo che i cittadini napoletani siano concordi con me che eh potevamo anche fare a meno di questa installazione. Oltretutto insomma è la seconda installazione dopo la venere degli stracci che a questo punto ovviamente a confronto eh potremmo paragonarla a una grande opera internazionale visto e considerato che almeno quella aveva un senso. Questa devo dire la verità eh io non lo comprendo. Eh quindi come ovviamente presidente della commissione trasparenza ho fatto anche un'interrogazione per conoscere eh quali sono gli altri costi perché poi ci sono altri costi legati alla guardiania. Insomma eh c'è c'è molto da spiegare rispetto a questa questione anche perché non è passata in consiglio comunale quindi noi in qualità di consiglieri come dire l'abbiamo trovata lì bella e fatta. Ecco appunto voi come Forza Italia avete denunciato la spesa per quest'opera 300 mila euro. È stato alla fine uno spreco secondo lei? Assolutamente sì. Le ripeto ci sono altre priorità per la città di Napoli. Abbiamo altre priorità e poi se proprio la dobbiamo dire tutta in termini strategici credo che eh siamo in un momento storico in cui eh molto probabilmente il comune di Napoli potrebbe fare una manifestazione di interesse eh per chiedere ai tanti brand nazionali e internazionali eh se sono interessati loro a pagare il comune di Napoli per eh rimanere su una piazza così principale per tre tre mesi perché l'opera rimarrà fino a dicembre. E poi mi chiedo dopo che sono stati questi spesi questi soldi poi quest'opera tornerà ai familiari. Quindi insomma è veramente una gestione eh della della spesa fatta proprio in modo strano. Quindi va fatta chiarezza. È un momento in cui veramente potremmo sfruttare altre tipologie eh di 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 risorse anche perché tra l'altro è stata fatta eh in una in una piazza dove non credo che ci sia bisogno di un ulteriore arricchimento storico, artistico e culturale. Eh perché voglio dire circondata dalle principali bellezze della città. Quindi davvero è un comportamento strano. Ecco intanto Savastano lei ha accennato al settore del turismo. C'è addirittura chi pensa che attraverso questo pulcinella così discusso e che fa scandalo si possa invece addirittura rilanciare eh il turismo nella città di Napoli. Lei che cosa dice? Innanzitutto bisogna capire quanti turisti comprendano che si tratta di un pulcinella. Partiamo diciamo dalla prima constatazione. E in secondo luogo credo che eh ripeto Napoli siano diversi anni che sta già vivendo un periodo di grosso eh rilancio da un punto di vista turistico. Sarebbe piuttosto opportuno che invece il comune investisse maggiormente nei servizi al turista perché continuiamo eh ad avere una una un'offerta. La domanda cresce ma a questa non corrisponde un'offerta a mio giudizio adeguata perché al di là del prodotto turistico in senso stretto mancano i servizi. Eh non hanno insomma è sotto gli occhi eh di tutti che abbiamo il problema degli infopoint in primo luogo perché eh quando parliamo di destinazioni turistiche è necessario rispondere alle esigenze del turista. Quindi di quelle che possono essere le richieste eh più svariate. Poi a questo anche i bagni pubblici o qualsiasi altro tipo eh anche il problema ecco del trasporto, della mobilità. Abbiamo il problema annuso dei taxi che comunque non riescono spesso a soddisfare il bisogno perché ancora non abbiamo le corsie preferenziali. Eh non abbiamo non siamo ben organizzati per riuscire a gestire al meglio questi flussi. Ecco intanto ci sono state tantissime reazioni anche di proteste piuttosto forti. Duecento donne chiedono di togliere questa installazione perché a loro giudizio è il simbolo del patriarcato. Lei condivide questa posizione? Personalmente non credo che sia questo il problema. Credo che sia eh piuttosto un un'opera che se anche quella ovviamente non era il fine perché io non credo assolutamente che l'autore eh volesse eh come dire ehm esprimere eh un'offesa nei confronti delle donne o altro ma sicuramente la riuscita è infelice e quindi sicuramente è l'opera eh è ehm proprio non piacevole soprattutto anche un po' volgare devo dire insomma è eh quasi fa ovviamente tutti ormai è diventata la barzelletta di Napoli. Ieri eravamo sui principali canali nazionali ehm in tv però voglio dire sempre con eh ridendo di questa scelta e quindi è è imbarazzante e soprattutto è volgare come come installazione. Quindi personalmente ritengo che al di là ecco il patriarcato no non la vedo così la vedo che è proprio volgare nel suo essere. Adesso che cosa vi aspettate? Insomma si può ipotizzare a suo giudizio l'intervento della sovrintendenza? Insomma questa opera va tolta eh quanto prima secondo lei? Ma io credo che la sovrintendenza sia stata abbia avuto diciamo abbia dato un parere favorevole altrimenti non credo che l'opera fosse lì nelle principali piazze, una delle principali piazze della città. Eh la propria la sovrintendenza si fa sentire sempre quindi mi sembrerebbe alquanto eh stravagante il fatto che non fosse stata informata di questa di questa installazione. Eh al di là di questo piuttosto io farei mh diciamo seguendo quello che poi il mio profilo eh politico interrogherei l'amministrazione sul perché di tale scelta, su chi ha scelto di eh mettere un'opera del genere su questa piazza, il perché è stato fatto, visto e considerato che ho detto non è una priorità, abbiamo tante altre priorità e quindi eh su questo mi mi focalizzerei. E poi mh è una cosa grave anche il fatto che ci sia un servizio di quasi 40.000 euro per la guardiania dell'opera. Insomma stiamo parlando di soldi pubblici, stiamo parlando della necessità di capire chi sceglie questo tipo di azioni strategiche in un momento così difficile per la città di Napoli. Ecco per chiudere appunto qual è il vostro giudizio rispetto all'Aggiunta Manfredi? Questo episodio è in pratica uno scivolone secondo lei rispetto alle tante emergenze che vive la città? Assolutamente sì. È uno scivolone e questo deve dire insomma si deve fare tesoro di questa cattivissima esperienza per monitorare eh altri tipo di di scelte in tal senso oltretutto ripeto è un momento in cui non era necessario eh in quella piazza di particolare pregio storico artistico e culturale mettere un'installazione tra l'altro temporanea perché fino al 16 dicembre quindi qual è l'utilità? Ottobre, novembre e dicembre abbiamo già eh un numero enorme di eh di flussi turistici anche croceristici che attraversano quella piazza quindi avrebbero eh già da mirare senza anche quell'installazione. Bene staremo a vedere gli sviluppi di questa situazione intanto grazie Iris Savastano capogruppo di Forza Italia al Comune di Napoli grazie per questo intervento e buona serata. Grazie a lei arrivederci. Grazie. Allora abbiamo concluso io ringrazio in regia Michele Urciolo grazie a voi che ci avete seguito. Arrivederci. Grazie a tutti.